sì sì però no perché se le cose vanno male hai rovinato una splendida amicizia sinceramente non mi andrebbe di solito o con i trend hanno provato a farmeli oppure pezzi delle canzoncine in dm di quasi non rispondo mai quindi tutta la mia vita selena gomez gli occhi personalità sicuramente i capelli le attenzioni che ricevi se non ti fa sentire amato non gira in moto si va in un ristorante carino poi si fa una passeggiata magari sul mare mi porterai mirko perché comunque ci conviverei bene livia sicuramente giulio